poiché sono presenti tenaci adessioni tra il corpo vitro e la retina il distacco posteriore di vitro può provocare trazioni sulla stessa e se la retina è fragile in quel punto particolare questo può portare ad una rottura retinica che permetterà ai fluidi intraoculari di attraversarla e di distaccare la retina nella maggior parte dei casi non c'è niente che lasci presagire l'avvento di un distacco di retina prima che questo accada i sintomi fisici percepiti dal paziente sono lampi di luce comparsa di numerosi piccoli punti scuri fluttuanti e la perdita visione nei settori periferici del campo visivo che raramente il paziente nota prima che interessi la visione centrale senza un rapido intervento chirurgico preferibilmente tra l'ottavo e il quindicesimo giorno la retina può coartarsi perché le cellule dell'epitelio pigmentato incominciano a formare membrane sulla superficie della retina e quando la retina è retratta la chirurgia diventa molto più complicata e le possibilità di successo calano drasticamente il primo obiettivo della chirurgia è fermare il passaggio di fluidi al di sotto della retina ottenuto ciò l'effetto di pompa ad opera dell'epitelio pigmentato permette alla retina di riaccollarsi per fare questo il chirurgo per prima cosa ha bisogno di localizzare tutti i fori retinici non importa quanto siano piccoli ed indurre una reazione infiammatoria in corrispondenza dei margini delle rotture mediante criopessia o laser questa reazione funzionerà da collante quando la retina tornerà in contatto con l'epitelio pigmentato ciò può essere ottenuto in svariati modi il distacco può essere ridotto accostando la sclera al tessuto retinico sollevato mediante la posizione di un bottone sclerale sotturato alla stessa ovvero mediante un tamponamento interno iniettando all'interno dell'occhio una bola di gas che si riassorbirà spontaneamente dopo qualche tempo nei casi più complicati può essere utilizzato olio di silicone che costituisce un passaggio intermedio in quanto va rimosso in un secondo tempo in ultimo dobbiamo considerare che anche l'interruzione delle eventuali trazioni che causano il distacco contribuisce al riposizionamento retinico restituendo alla retina la sua mobilità questo procedimento viene detto vitrectomia o rimozione del corpo vitrio queste procedure possono essere combinate insieme così come con altri passaggi complementari quali la dissezione delle membrane o la rimozione dei fluidi sottoretinici il rischio di recidiva al primo intervento è sempre presente poiché il chirurgo non può con certezza prevedere i processi che seguiranno ad ogni singolo distacco di retina specialmente se in stadi avanzati o complicati può dunque rendersi necessario ripetere le procedure fino a quando un recupero anatomico non venga garantito dopo la dimissione lei metterà delle gocce negli occhi il nome del collirio la frequenza delle medicazioni e la durata del trattamento saranno definiti dalla prescrizione iniziale se una bolla di gas viene insufflata nel suo occhio il chirurgo le chiederà di mantenere una precisa posizione per alcuni giorni l'obiettivo di questa procedura è quello di garantire la presenza del tamponante sulla parte sollevata della retina questa bolla scomparirà spontaneamente in pochi giorni durante questo tempo lei osserverà una larga macchia nei settori inferiori del suo campo visivo come se guardasse attraverso un acquario fino a che non avviene il completo riassorbimento della bolla di gas i viaggi in aereo sono rigorosamente vietati al fine di garantire un migliore recupero della sua retina è opportuno evitare tutte quelle attività che possono provocare scuotimento quale ad esempio leggere guardare attraverso il finestrino di un treno o di una macchina in corsa evitate sforzi fisici e sport è però possibile guardare la televisione purché si conservi la posizione raccomandata durante i primi 15 giorni postoperatori è necessario attenersi ad alcune precauzioni niente deve toccare il suo occhio attenzione al sapone, allo shampoo evitare le piscine eliminare tutte le fonti di infezioni evitare i colpi di freddo e gli ambienti infetti una infezione oculare è una complicanza molto seria e necessita di trattamento d'urgenza quindi se si manifesta rossore o dolore oculare o un improvviso calo della vista contatti immediatamente il medico di fiducia la sua vista migliorerà progressivamente in caso di tamponamento con gas può essere difficile rendersi conto di come questo accada tuttavia se non si ha un rapido rischiaramento della visione contatti l'oculista di fiducia alcune visite di controllo saranno necessarie per permettere al chirurgo una completa valutazione del risultato postchirurgico dato che un rischio di recidiva è sempre presente e che potrebbero rendersi necessari reinterventi se tutto andrà bene potrà tornare alle sue normali attività il recupero funzionale ottimale arriverà tra il terzo e il sesto mese dopo la chirurgia in questo periodo spariranno qualora presenti anche l'infiammazione ed il dolore grazie a tutti Grazie a tutti